io la vedo tosta ma tosta ma piu tosta vediamo come facciamo come come le gare chi arriva più in alto il monte impossibile partiamo da sotto e vediamo chi arriva su questo si chiamerà dillo marco il monte impossibile ma il monte impossibile della strega questo è uguale a quella che fanno line in francia e chi arriva più in alto poi lanci la moto se passa fuori hai vinto la mia è più pesante fai fatica a lanciarla no bisogna farla un paio di volte a scendere perché tiri giù un po di roba perché sennò a salire non vedi neanche la traccia vito adesso scendiamo tutti di qua vito scendiamo tutti e poi risaliamo chi arriva arriva chi arriva vince il giro completo per tornare chi non arriva torna giù qua si ma ascolta adesso scende lui è per primo scende il marco per primo porta giù tutto è trovi tutto lì dove c'è spapi tutto lì porta li troverai lì un montone di roba così con le sue gambe sicuro garantito da qua abbiamo detto con stefano e poi tagliamo perché di là c'è tutto l'altro sentiero che aveva a bordo in alto va beh ma lo facciamo vito facciamo poi quei passaggi qua cioè questi tagliamo fuori poi dopo ecco buon l'hai scavato in mezzo non saliamo più perché in mezzo qua ci sarà un altro sasso sicuro che tiene di quei due lì provo a vedere qua no qua qua vedi no no in legno tanto adesso scende lui per primo scende lui con le sue gambe tira giù tutto fino alla in fondo poi la in fondo c'era giù un montone alto due metri però fa niente marco sei soddisfatto che te l'hanno pulita tutta oh diglielo e che cavolo che eravamo qua come due pellegrini questo lo prendi sulla testa però è questo lo prendi in la testa secondo me quando arriva il quello no è la tua macchinetta e l'ho lasciata su vito sa che questo e quando scendi ma quando sali secondo me mi sbaglierò quello la no perché è più in basso ma questo è stupido eh secondo me due tagli è meglio farlo bravo quello che volevo dirvi prima perché dove ci sono i sassoni usiamoli da fare i passaggi butta tutto lì Marco tutta tutto lì insomma e passi sopra i due sambuchi in mezzo ma in mezzo lì no perché devi passare lì in mezzo passa in mezzo i due sambuchi vabbè dai scendi di lì e si e ma guarda che salire lo prendi è spanti in discesa no ma in salita non è filosofia c'è hanno nascosto questi qui voglio passare sopra lì hanno nascosto tutti i sassi che c'erano e questi dopo vengono fuori tutti dopo li li buttiamo eh li buttiamo su rates pian piano oggi abbiamo già fatto un bel sandhiero dai figa questo è il sandhiero che ti diverti Non pensai che tutti vengono su, ti metti a sasso e filmi, c'è il posto da filmare, non vengono, ma neanche noi udì, non lo so, è la prima volta che mi tagli e voglio caricare bene, è morbido, è però qua ce n'è qua, ce n'è qua.